Un messaggio di auguri ai lettori di Terminaline e alla nostra comunità territoriale. Auguri, Santo Natale e che questo sia veramente un bel Natale e che questo splendido sole ci porti tanta felicità e soprattutto che guardi non soltanto quelli che sono le angosce di una comunità ancora colpita da tanta disuguaglianza, da tante problematiche, ma anche un anno nuovo che guardi anche alla pace nel mondo, che guardi alla questione della Palestina, alla questione di Gaza dove tanti bambini perdono la vita ogni giorno e che ci porti finalmente anche la soluzione di quella che è la guerra in Ucraina.